ciao sono marcello de carris e oggi faremo insieme l'unboxing del mio nuovo iphone 15 ho scelto la versione da 256 gb per avere più spazio a disposizione per foto e video e in questo video farò solamente un semplice unboxing e ti farò vedere come configurarlo le sue principali novità e quali sono le mie prime impressioni di questo nuovo prodotto meraviglioso della apple allora eccoci di fronte la scatola del nuovo iphone 15 scatola sempre minimalista di apple con l'iphone disegnato sembra quasi incollato sopra comunque è rialzato scritta iphone sul lato simbolo della mela iphone tutte le avvertenze dietro e andiamo a spellicolare facciamo cadere il nuovo iphone ed eccolo sembra strano vederlo al contrario testo in giù di solito ricordo che stava nell'altro verso però il verso giusto come vedi c'è lo scasso per le fotocamere del nuovo iphone e andiamo a tirare via ecco qui il mio nuovo iphone colore black e ancora qui troviamo il cavo finalmente abbiamo il cavo thunderbolt questo è il bc diciamo da entrambi i lati cosa comodissima che devo dire aspettavo con impazienza da apple ed è un cavo anche mi sembra molto bello al tatto questo rivestimento un rivestimento che sembra di tessuto e come al solito qui invece abbiamo la spilla per poter inserire la sim le avvertenze prima di utilizzare l'iphone e il classico adesivo della mela di apple e andiamo al vero protagonista il nuovo iphone 15 e vado a spellicolare qui abbiamo le solite indicazioni del tasto per il silenzioso il tasto di volume e il tasto per spegnere e accendere per bloccare ma vado a spellicolare quando sentire questo suono è sempre un'emozione ora non mi resta che passare quindi a configurare questo nuovo iphone quindi primo il tasto per accederlo ecco che sta accendendo hello swipe up to open e andiamo a scegliere il nostro linguaggio l'italiano sono in italia imposta la lingua ora devo scegliere e quindi mi dico che si deve rivolgere a me in modo maschile e qui mi fa scegliere l'aspetto se quindi voglio una dimensione più piccola normale cioè quella di default quella media oppure quella grande direi che quella di default ci va bene ora vado ad avvicinare il mio iphone mio vecchio iphone il mio iphone 13 mini in modo tale che ecco già i due iphone si sono visti le dico di continuare utilizzando il mio id apple ora vado ad inquadrare solito sistema configura il nuovo iphone utilizzare il mio id ok configura per me e mi dice di concludere sul nuovo iphone quindi le dico che sono maschio inserisci il codice dell'altro iphone ok mi dice che l'attivazione potrebbe richiedere qualche minuto ne aspettiamo ok date privacy le dico che continua ok ora vuole impostare il face id le dico di continuare mi spiega come configurare il face id quindi posizione rivolto nel quadro della fotocamera quindi muovi la testa in modo circolare per assicurarti di inquadrare tutti i lati e vado ad inquadrare qui mi chiede se lo voglio usare con la mascherina ma spero di non averne più bisogno quindi ho configurato face id ora mi chiede se voglio trasferire i dati iphone di marcello e quindi mi dice se stai cambiando telefono puoi trasferire tutti i dati alle impostazioni di iphone di marcello direttamente su iphone assicuro che il tuo vecchio iphone si trovi nel vicinante e sia collegato all'alimentazione fino al termine del trasferimento e ci vogliono 10 15 minuti quindi dico di continuare metto a caricare il mio iphone 13 mini e vi dico che accetto i termini e condizioni no che mi fa vedere tutte le impostazioni le dico che questo qui sarà il mio nuovo iphone e continua i futuri aggiornamenti una giornata automaticamente i futuri aggiornamenti software verano scaricati e installati automaticamente appena vengono pubblicati puoi gestire ok no li dico che solo il download automatico poi mi dice di i messaggi e facetime gli altri utenti potranno contattarti su tutti i dispositivi tramite i messaggi e facetime usando il tuo numero telefonico e i tuoi indirizzi mini il numero telefonico associato a questo iphone verrà inviato ad apple per consentire la configurazione dei messaggi e facetime ok le dico di continuare abilito la localizzazione dico di condividere analisi con del software e qui con gli apple sviluppatori sos emergenza tieni premuto per attivare sos emergenza riprende incidenti e in alcuni paesi sos emergenza via satellite mi chiede anche di già di aggiornare il software e quindi gli dico di aggiornarlo una cosa bella è che è già su collegato alla al mio wifi non ho dovuto mettere nessuna password e quindi ora si sta scaricando l'aggiornamento nel frattempo che finisce l'aggiornamento ti parlo un po di quelli che sono gli accessori come visto nella scatola non c'è un trasformatore puoi acquistare quello da 20 watt da 30 watt stesso della apple e io come vedi ora lo sto usando sul mio iphone 13 mini sono affezionato alla ricarica wireless e quindi passerò questa ricarica wireless sul mio nuovo iphone e inoltre per aiutarmi nel caso quando sono in giro che mesi scarichi il telefonino o anche il power bank make safe della berklin mi manche comprerò al più presto una custodia come questa qui dio sul mio iphone 13 mini e ci metterò sopra anche uno uno schermo protettivo per proteggere lo schermo del mio nuovo iphone comunque descrizione troverai tutti i link di questi prodotti che comprerò per il mio nuovo iphone dimenticavo anche che ho preso questa base di ricarica della zoom 6 che è davvero comodo che ti permette di caricare l'iphone l'apple watch e le airports e ovviamente con le di una sola presa che è comodissimo quando sei in giro in albergo e non ci sono molte prese a disposizione quindi anziché portare una tripla o chissà quale cosa strana con questo qui puoi caricare tutto in uno ovviamente troverai tutti i link di questi accessori nella descrizione del video eccolo che ora sta installando l'aggiornamento ok sembra che ci siamo si sta preparando al trasferimento ok sembra che stia andando sta procedendo e ci vorrà un po di tempo a quanto pare ok manca solo un minuto ci siamo quasi ok ha già trasferito tutti i dati qui mi chiede se inizializzare i dati gli dico di non farlo ora e quindi ora aspetto che si avvino il mio nuovo iphone ok quindi vado ad aprirlo ripristino con l'umbrità del da dopo delle auto e continuerà in background ok mi chiede la password del di apple sta accedendo al mio cloud carina questa animazione ok aggiungi apple pay dico di continuare ci sono le mie carte continua ok qui mi spiega come utilizzare apple pay ok e sono all'interno del mio nuovo iphone sta scaricando ancora molte delle applicazioni ma è normale diciamo la stessa è identico al mio vecchio iphone e come ti dicevo quindi questo qui è il modello da 6,1 pollici è dotato appunto di questa Dynamic Island Island utilizzare questo iphone quando condividi la tua posizione usa quindi qui ho la Dynamic Island che poi man mano capirò come funziona in base alle applicazioni che tieni in uso li cambierà l'aspetto e sostituisce il vecchio notch di iphone 13 degli altri iphone come vedi è molto più piccolo in proporzione anche che in pratica permette anche di scattare foto ci sono in pratica in questa Dynamic Island ci sono anche le fotocamere ma anche la fotocamera principale è stata potenziata ora è una fotocamera da 48 megapixel che consente di scattare foto ad altra risoluzione quindi questo teleobiettivo che consente anche di scattare foto 2x e ci abbiamo i vari ritratti in modalità foto quando all'inquadratore sono presenti una persona o un cane o un gatto puoi convertire rapidamente la foto in un ritratto con uno splendido sfondo sfocato toccando F oppure puoi modificare in seguito la foto continua quindi vediamo questa qui è la fotocamera normale 2x oppure 0,5 come sull'iPhone ti farò vedere delle foto scattate e vediamo, proviamo a mettere i soggetti in più piani vediamo se mi fa, vabbè è live quindi per raddrizzare la foto proviamo a fare un ritratto metto uno per decidere allontanarmi dal soggetto ok, quindi è scattato questa foto mettendo a fuoco quindi mi fa modificare il ritratto oppure come vedi posso cambiare il soggetto da mettere a fuoco davvero fighissima questa cosa quindi nella modalità ritratto abbiamo questa nuova opzione davvero molto molto bella tutto questo è possibile anche grazie al nuovo chip il chip che è l'A16 Bionic e in più la batteria è un'altra grande novità che dovrebbe permettere di durare un giorno intero ma questo potrò dirtelo ovviamente solamente dopo averlo utilizzato e come abbiamo visto prima abbiamo i due tasti volume lo switch per mettere il silenzioso abbiamo visto anche la Dynamic Island in funzione il tasto per disattivare e riattivare lo schermo e come ti dicevo prima la grande novità che è il connettore USB-C che lo rende compatibile sotto vari aspetti il display è un Super XDR questo nuovo display quindi è perfetto per guardare contenuti seguire streaming degli allenamenti di fitness più e giocare anche con i videogame e soprattutto dovrebbe essere promette di essere molto molto luminoso e infatti a 1600 nit per foto e video HDR ancora più incredibili e nelle giornate di sole la luminosità di picco arriva addirittura a 2000 nit quindi sarà davvero impossibile non riuscire a guardare lo schermo e sul vetro di questo iPhone troviamo un'altra grande novità perché sembra che il colore è infuso nel vetro posteriore che è rinforzato quindi è molto solido inoltre il profilo smussato sul guscio rende... cioè è davvero molto piacevole toccarlo e tenerlo in mano come vedi è smussato più avanti ti farò sapere come si comporta questo nuovo iPhone 15 con tutte le applicazioni che utilizzo solitamente in particolare quelle che utilizzo per fare musica ma la prima impressione resta quella di uno smartphone davvero eccezionale e da tenere in mano è davvero piacevole e in descrizione trovi ovviamente ti ricordo che trovi tutti i link per acquistare l'iPhone 15 e i suoi accessori per oggi ti saluto e ti ricordo di seguirmi sul mio sito www.marcelodecarvis.com i miei social Facebook, Instagram e Spotify ed iscriverti al mio canale YouTube ti ricordo inoltre che puoi sostenermi con una donazione Paypal cliccando nel link in descrizione o su YouTube con un super grazie e inoltre puoi ancora abbonarti sempre al mio canale YouTube per poter ricevere alcuni vantaggi in esclusiva che ho riservato per te ciao grazie a tutti